Musica Sono il numero 32 e vogliono fare una grande su asfalti che ormai conoscono abbastanza bene Ma abbastanza parliamone, è la seconda volta che corro a Rubinetto e prima volta con una Super 1000 e 6 Puntiamo a divertirci, a far bene dai Senti, qual è l'insidia maggiore? E comunque è un territorio che conosci, non è che sei proprio novello Beh, non è come fare il Vagliossolane qua, però non so, la Mottarone l'ho già corsa, anche la Sovazza, sono prove che mi piacciono In generale ci sono grandi indici di credimento, ah guarda lì, sta per arrivare un bebè, c'era un Lodic al 70% Di solito sono notizie ricercate ma solo pubblicano loro Mentre dalla provincia di Varese arrivano il re e la regina, re Barsanofio, Monica Luca, la regina appunto Al via sempre in Super 1000 e 6, hanno cambiato varie vetture negli ultimi anni Certo è che con le due ruote motrici questa è la dimensione che preferiscono Sì, è vero, esatto, è una macchina che in assoluto ci dà più soddisfazioni, è bello Poi mi piace perché quando arriviamo la gente impazzisce con questi rumori e poi l'aspirato è aspirato E niente, speriamo di fare una bella gara, è già bello che è una bella giornata E speriamo appunto di riuscire a esprimerci al massimo In bocca a loro e buon divertimento alla coppia della Renault Clio Coppia nella vita oltre che nello sport Re Barsanofio, Monica Luca, la regina Renault Clio Super 1000 e 6, loro sono candidati insieme per Luciani alla vita Coppia nella vita oltre che nello sport 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 Grazie a tutti.